Radio Babboleo Dio mio Ma chi scucia Babboleo? Non so Un idiota che scucia Babboleo Ah è Ah vittimini Un'ambi canzone, nuove emozioni Che? Ma guarda Ve l'ha detto Radio California Radio Canzone Radio Canzone Un'ambi canzone Un'ambi canzone Si Sanno Wow Era un'ambi canzone Che? A A Che? Grazie a tutti. Consigli su che utilizzare nel coce per essere tranquilli. Possiamo portarci qualche libretto da leggere? Eh, la Bibbia! La Bibbia! Quindi si possono attaccare e distaccare un centinaio di volte?